Sisalpoker.it Un altro giro? Real poker, real fun Una volta quello della massaggiatrice rientrava nel mestiere più antico del mondo, ora invece è legittimamente considerato il più nuovo, almeno quella della massaggiatrice da torneo di poker. Chi si affida le sue cure nei corridoi, dove hanno una strumentazione che permette un lavoro più curato, chi sceglie di averle al tavolo perché fa più inni. Le falangi rotiono sui lobby, poi si insinuano tra le scapole, poi ancora disegnano la colonna vertebrale. Coppia di dieci, asso e cappa, asso arrivere e tu perdi. Ma perché Doyle Branson dopo il massaggio ha vinto il coin flip? Sisalpoker.it Un altro giro? Real poker, real fun Grazie a tutti. Grazie a tutti.